domanda numero 49 le tre persone divine sono uguali o ce n'è una maggiore più potente e più sapiente le tre persone divine essendo un solo dio sono uguali in tutto e hanno ugualmente comune ogni perfezione ed ogni operazione sebbene certe perfezioni e le opere corrispondenti si attribuiscono più all'una persona che all'altra come la potenza e la creazione al padre ogni persona è dio e vi è un solo dio la natura per via della quale ogni persona è dio e quindi unica e uniche e comuni alle tre persone sono le perfezioni che si identificano con la natura l'esistenza la bontà per cui sono e operano la verità la vita eccetera uniche e comuni sono anche le operazioni ad extra che corrispondono alle perfezioni perciò le tre persone sono uguali in tutto e sarebbe un errore grossolano dire che una persona è più perfetta delle altre due hanno ugualmente comune ogni perfezione le perfezioni divine figurate dalla via sono una sola cosa con la divina natura e quindi con dio la bontà la potenza la sapienza la verità la bellezza la santità la giustizia la vita eccetera sono dio stesse ogni persona è ciascuna e tutte le perfezioni tanto il padre che il figlio e lo spirito santo sono la bontà la potenza la sapienza la bellezza la verità la vita ogni altra perfezione figurata della dalla via in dio vi sono le operazioni a po via d'intra e l'operazione o vie ad extra le operazioni ad intra si compiono in dio stesso e si identificano con le persone sono la generazione attiva del padre passiva del figlio l'aspirazione attiva del padre e del figlio e passiva dello spirito santo la generazione attiva si identifica col padre quella passiva col figlio l'aspirazione attiva il padre il figlio quella passiva lo spirito santo le operazioni o vie divina ad extra sono quelle che dio compie fuori di se stesso producendo qualche cosa distinta dalla divina natura sono operazioni ad extra la creazione il governo o provvidenza del mondo la santificazione degli esseri intelligenti e liberi queste operazioni ad extra sono comuni alle tre divine persone in modo che sia il padre sia il figlio sia lo spirito santo creano governano santificano le perfezioni per esempio la potenza la sapienza la santità e l'operazione ad extra sono corrispondenti per esempio la creazione corrispondente alla potenza l'ordinamento il governo delle cose corrispondenti alla sapienza il perfezionamento la santificazione corrispondente alla santità procedono dalla natura divina e sono comuni alle tre persone tuttavia noi attribuiamo una sola persona alcune perfezioni delle corrispondenti operazioni ad extra a una persona in particolare anziché a tutte e tre in comune e la divina natura essendo la trinità inseparabile non potremmo mai capire che vi è la trinità se parlassimo della trinità come inseparabile lo stesso san paolo riferisce il nome di dio e gli effetti prodigiosi al padre al figlio il nome signore e i ministeri sacerdozio apostolato allo spirito santo a distribuzione delle grazie vi sono distinzioni di doni ma un medesimo spirito e vi sono distinzioni di ministeri ma un medesimo signore e vi sono distinzioni di operazioni ma lo stesso dio è quello che fa in tutti tutte le cose secondo sant'agostino noi attribuiamo al padre la perfezione dell'eternità perché egli è il principio senza principio l'unità in quanto egli non presuppone altra persona la potenza da cui procedono tutte le cose perché egli è il principio di tutta l'eternità al figlio attribuiamo la bellezza in quanto è l'immagine perfetta dell'ineffabile bellezza paterna l'uguaglianza perché è l'immagine perfetta della grandezza e della perfezione del padre la sapienza in quanto è il verbo mentale del padre allo spirito santo il gaudio che è dono personale del padre e del figlio la concordia dell'unità e dell'uguaglianza del padre del figlio in quanto procede da entrambi come mutuo amore la bontà la quale conserva ordine perfeziona tutte le cose perché egli è l'amore del padre del figlio inoltre noi attribuiamo al figlio il magistero per il suo primato nella perfezione la via perché è il verbo per mezzo del quale dio fa tutte le cose la verità perché è l'immagine consostanziale del padre e la vita perché è il figlio unigenito del padre col padre e il principio dello spirito santo nei vari simboli di fede si dice che il padre il creatore il figlio il signore lo spirito santo il vivificatore il santificatore attribuire a una persona con effezioni operazioni ad extra comuni alla natura divina come se fossero proprie di una sola persona si chiama appropriazione l'opera della redenzione attribuita al figlio non è una pure semplice appropriazione nell'incarnazione nella redenzione tutte e tre le divine persone hanno cooperato con la potenza la sapienza la giustizia misericordia ma il solo figlio si è unito personalmente alla natura umana nel seno purissimo di maria santissima ed ha sofferto sulla croce con la sua umanità santissima la quale con tutto ciò che ha fatto e sofferto è la via maestra che manifesta la verità divina e comunica la vita di grazia e di gloria riflessioni il padre conoscendo se stesso genere il figlio come verbo mentale il padre il figlio amando si ispirano lo spirito santo elevati a partecipare a questo divino ministero dobbiamo vivere sempre più questa sublime realtà soprannaturale accrescendo continuamente in noi stessi la conoscenza della fede e l'amore della carità primo esempio ricordiamo ancora alcune analogie e vestigi della santissima trinità che osserviamo dentro e fuori di noi ogni cosa il corpo ha tre dimensioni lunghezza larghezza e profondità la famiglia consta di tre elementi padre madre e figli il tempo ha tre aspetti o momenti presente passato e futuro la materia tre stati solido liquido gassoso l'anima tre facoltà intelletto memoria volontà secondo esempio il triangolo equilatero o meglio la lettera dell'alfabeto greco fu scelto come simbolo della santissima trinità a tre angoli e tre lati ogni angolo è uguale agli altri due e abbraccia tutta la superficie interna che è unica per ciascun angolo nella divinità ogni persona è dio perfettamente uguale alle altre due e si identifica con tutta la natura divina domanda numero 50 il padre almeno fu prima del figliore dello spirito santo il padre non fu prima del figliore dello spirito santo perché le tre persone divine avendo in comune l'unica natura divina che è eterna sono ugualmente eterne non ci dobbiamo lasciare ingannare dal fatto che tra gli esseri creati il padre è sempre e necessariamente prima del figlio nel tempo in realtà il padre quando comincia ad essere padre solo quando comincia ad esistere il figlio prima non è ancora padre ma solo uomo egli precede il figlio in quanto è uomo non in quanto è padre in dio le tre persone si identificano con la divina natura che è eterna e non conosce tempo prima e poi perciò il padre non può essere prima del figlio dello spirito santo dio infatti e quindi ciascuna delle tre divine persone è un motore immobile al di sopra del tempo non soggetto al prima e al dopo riflessione il figlio unigenito del padre si è fatto uomo per farci figli adottivi di dio e partecipi del suo amore eterno per lui e nel suo spirito siamo uniti al padre e solo il peccato si può ci può separare da dio esempio oggi che cosa abbiamo imparato alla scuola di catechismo domanda il babbo al suo bambino il maestro che ha spiegato il mistero della santissima trinità risponde il figlio e riassume la lezione ma tu sei mio figlio riprende alla fine il padre e sei molto più giovane di me non ti sei stupito sentendo dire che in dio il padre non è più vecchio del figlio no papà tu hai cominciato ad essere mio padre quando io ho cominciato ad essere tuo figlio bene concluse il padre e siccome il padre è dio da tutta l'eternità anche il figlio è eterno e tra le due persone divine non vi può non si può parlare di vecchiaia e di giovinezza